ciao a tutti sono sissi bentornati sul canale all pazzesco sono stata per la prima volta da primark ci potete credere che io non ero mai stata da primark sono andata con le mie amiche al centro commerciale di arese per vedere il centro commerciale che non avevo mai visto sebbene è abbastanza vicino a casa mia tipo a 45 minuti da casa mia non c'ero mai stata dovevamo andare per prendere ovviamente cose per noi e per cominciare a fare dei regalini di natale ovviamente ho comprato tutto per me ad avere egoista scherzo più o meno e ho qui una borsa piena di roba di primark vi avevo già anticipato in uno scorso video che ero nel bel mezzo del decluttering totale del mio armadio praticamente ho buttato via tutto ho fatto quattro sacchi di roba da donare e mi serviva insomma un po un cambio di guardaroba ovviamente tutte le cose che vi faccio vedere vi inserisco come al solito la clip indossata e niente partiamo subito allora ho fatto spese da primark ma vi faccio vedere anche che ho comprato un cappottino da stradivarius voi sapete che io ero in cerca di un teddy coat perché sono andata in fissa con il teddy coat volevo il teddy coat eccetera le mie amiche mi hanno detto di no perché mi hanno testuali parole il teddy coat mi fa più grossa di quello che sono quindi niente teddy coat cappottino normale e ho preso un cappottino da sciuretta da e l'ho approvato da stradivarius eccolo qui ve lo faccio vedere un cappotto da sciuretta e l'ho pagato 55 99 eccolo qui io l'ho preso in m ok la qualità è bellissima è tutto foderato fin dentro alle maniche praticamente e anche la fodera è veramente di qualità mi ha stupito il cappottino di questo bel colore vi faccio vedere ovviamente vi metto la clip indossata e ve lo la faccio di fuori così c'è la luce anche qui c'è la luce naturale però magari in esterno un pochino cambia il cappottino ha una trama vedete che all'inizio la vedete questa trama a righe in diagonale all'inizio mi ha un pochino resa perplessa questa trama quindi ho detto boh mi mi lasciava indecisa no però mi sono accorta perché ho provato tutti i colori di cappottini che c'erano anche quello rosso mi stava molto bene che era a tinta unita insomma non aveva nessuna trama però mi sono resa conto che questa trama dava un pochino di movimento questo è il primo che ho provato questo colore ed è anche quello che sinceramente mi stava meglio anche a detta delle mie amiche il dettaglio dei bottoni è così queste taschine sono praticamente sono chiuse e non si possono utilizzare e niente vi lascio la clip questo è l'unico prodotto l'unico capo che non ho preso da primark insomma ma l'ho preso da stradivarius cominciamo con primark dunque io non lo sapevo che primark fa tutti i vestiti praticamente con la plastica riciclata e mi sono accorta quando sono torna cioè mi sono accorta la con il p con un pigiama che ho comprato ho fatto spoiler ho comprato un pigiama ma di tutte le altre cose mi sono accorta a casa sinceramente ho preso questo bel maglioncino verde ok nella taglia m voi sapete che io adoro il verde e niente quindi questo bel maglioncino invernale a 12 euro e dice fatto con plastica riciclata quindi non lo so io voglio sperare che tutte queste cose che ho comprato non mi facciano puzzare nel caso in cui io sudi un po più del dovuto e niente quindi non so essendo la prima volta che compro da primark non so come sia la qualità nel senso a vederli così le cose mi sembrano anche fatte molto bene non so la qualità nel tempo dopo i lavaggi eccetera potrò darvi un aggiornamento e niente quindi questo dice misto lana wool blend misto lana sarà lana e plastica riciclata a quanto pare quindi anche anche di questo ve lo faccio vedere indossato via primo maglioncino sempre in verde perché io odoro il verde verde militare il verde salvia eccetera ho preso questo bel paio di pantaloni della tuta ok molto simili a quelli che vi avevo fatto vedere nello scorso haul non hanno le tasche mi sono accorta adesso che non hanno le tasche però non fa niente quindi sono così sono in verde vi faccio vedere il dettaglio sulla gamba che alla caviglia e ha un pochino di arricciatura e vi faccio vedere anche il dettaglio in vita con le cordine e queste praticamente la fine della cordina e al bussolottino in plastica ok anche di queste ho preso la taglia m ho provato tutto è ho provato tutto ho preso la taglia m e questi li ho pagati quanto 6 euro un affare e dentro non sono particolarmente pesanti però dentro sono un pochino felpatini ok vedete praticamente dovrebbe essere questa la plastica riciclata ok andiamo avanti anche di questi ovviamente ve li faccio vedere indossati andiamo avanti sempre con pantaloni e quindi nel decluttering praticamente ho buttato via tutti i miei jeans sono rimasta con solamente tre tre paia di jeans uno nero uno militare ma proprio mimetico e uno blu quindi mi mancava il jeans grigio quindi ho preso questo bel jeans in questo bel grigio rock ok e mi è piaciuto subito è questo bel grigio rock è a vita alta vediamo il modello è super stretch skinny e ho preso la taglia 44 ok guardate i dettagli guardate quanto è bello mamma mia mi piace quanto mi piace questo colore grigio rock io lo chiamo grigio rock ed è un pantalone a vita alta elastico elasticizzato perché lo sappiamo che io sono una curvi una tutta curve e niente questo al marchio licra al marchio licra e l'ho pagato 13 euro eccolo qui 13 euro mi sembra che è un prezzo buonissimo per un paio di jeans e niente quindi vi faccio vedere il dettaglio della gamba che è così e skinny quindi alla caviglia è stretto ve lo faccio vedere indossato con tutte le altre cose e quindi poi andiamo avanti facciamo un po veloce ho preso questo trio ok di top di top di reggiseni top perché io uso li uso anche d'estate ma li uso anche d'inverno nella mia vita di tutti i giorni ho abbandonato il reggiseno con la coppa e ho abbandonato definitivamente anche il ferretto perché non voglio nulla che mi costringa insomma non so se è stato l'effetto del lockdown ma il mio guardaroba si è praticamente andato nella direzione della comodità quindi non voglio nulla che mi costringa non voglio essere comoda e quindi ho preso questo bel tris di top e niente anche questi dice fatti con plastica riciclata ho preso la s io sono praticamente tra una seconda e una terza come misura di seno però la m mi sembravano veramente troppo grossi credo che la s mi stia ovviamente questi non ve li faccio vedere indossati però vi farò sapere se mi stanno o no qua dietro c'è tutta la tabella delle taglie addirittura si parte dalla 2 xs come range di taglie devo dire che primark mi ha veramente stupito perché ci sono cose appunto partono dalla doppia xs fino alla doppia xl quindi sono veramente molto inclusivi e mi è piaciuta tanto anche che in negozio c'era la pubblicità insomma l'immagine con la modella anche in sedia a rotelle quindi devo dire che ovviamente sono sia attenti all'ambiente riutilizzando la plastica che attenti all'inclusione e alla diversità di ognuno di noi insomma delle varie forme che possiamo avere e niente quindi questi sono 3 pack sim sim free wireless ok top così questo è il modello sì questo è il modello ok vi faccio questi ovviamente non vi faccio la clip però vi farò sapere se mi vanno bene poi ho preso un pigiama ho preso un pigiama che qui e qui mi sono accorta che era un pigiama di plastica riciclata mentre tutte le altre cose mi sono accorta a casa vedete voi il pigiama mi sono accorta subito in negozio ed è quello che mi ha fatto titubare perché io cercavo un pigiama in cotone di solito io uso il cotone cioè uso pigiama in cotone perché mi trovo bene insomma non mi fanno sudare e mi trovo bene ma ho voluto prenderlo lo stesso perché tutte le mie amiche l'hanno comprato anzi ne hanno comprati vari set anche per fare dei regalini perché è veramente un pigiama molto carino ma ero un po' titubante quindi anche anche di questo vi farò sapere come mi trovo se mi fa sudare se mi tiene troppo caldo eccetera questo l'ho preso anche lui nella taglia m e l'ho pagato 14 euro adesso ve lo è un questo bel color tortora ok un grigio tortora e adesso lo svolgo e ve lo faccio vedere dovrebbe avere i pantaloni anche lui skinny vi faccio vedere il sopra è così vi faccio vedere il dettaglio del collo molto carino sembra abbastanza leggero si vede attraverso o no? non si vede attraverso però sembra abbastanza leggero quindi sono fiduciosa che non mi tenga troppo caldo spero che non si veda attraverso perché io per andare a letto non uso né top né reggiseni vado a letto proprio free vi faccio vedere il dettaglio qui sul fianco perché ha uno spacchino ha uno spacchino ok e vi faccio vedere il dettaglio del pantalone che è a costine eccolo qui vedete è il pantalone a costine ha un bel elastico bello forte dentro c'è un cartoncino qua e vi faccio vedere il dettaglio alla caviglia eccolo skinny anche lui vediamo speriamo che mi stia bene adesso vedo se farvi la clip anche di questo o no magari metto il pigiama con sopra il cappottino per farvelo vedere di fuori poi ho preso due magliette semplicissime con scollo normale ovale una nera e una bianca semplicissime che mi servono da mettere sotto le felpe d'inverno e magari con un paio di pantaloni casual in estate e anche queste sono fatte con una percentuale di plastica riciclata io non sapevo potesse essere possibile una cosa del genere perché a vederle sembrano assolutamente di cotone anzi sono bellissime proprio come mi piace a me sono fini sottili di stoffa sottile proprio come mi piace anche di queste ho preso la M e queste vengono 2,50 euro l'una ok e niente queste sono due t-shirt semplicissime ce ne sono veramente di tutti i colori praticamente e andiamo avanti con cosa ho preso ha dei leggings dei leggings semplicissimi io di solito per prendere i leggings che uso nella vita di tutti i giorni anche adesso ho dei leggings io di solito li prendo alla decathlon che mi costano 4,90 euro credo i leggings di decathlon mentre qui a primark sono a 3,50 euro io ne faccio fuori un sacco durante l'anno perché di solito mi si bucano sempre qua in mezzo dove mi sfregano le cosce e anche di questi vestono abbastanza comodi e ho preso quindi una taglia M ho preso una taglia M e sono dei leggings normalissimi li ho presi in nero ho provato anche la L ma mi stavano molto più larghi rispetto a questi quindi avevo paura che con l'uso di tutti i giorni si lasciassero anche andare quindi ho preferito prendere la M andiamo avanti con le ultime cose che ho preso che ovviamente non vi farò vedere indossati sono dei calzini sono calzini cotton rich trainer socks sono 7 paia cotton rich cosa vuol dire? sono 71% cotone e ha una percentuale bassa di poliestere e elastene quindi hanno una percentuale una grande percentuale di cotone che è la cosa migliore perché a contatto con i piedi che sono nelle scarpe che sudano ha maggior ragione se vi puzzano i piedi a me personalmente non mi puzzano i piedi però sudo anche io e se sudo tanto può essere che mi puzzino è una cosa buona avere la biancheria intima di cotone è sempre una cosa buona avere la biancheria intima di cotone sia che siano mutandine sia che siano calze e quindi sono molto contenta di questa cosa quindi il pacco da 7 calzini quelli corti insomma quelli che arrivano sotto la caviglia vengono a 3 euro ecco qui 3 euro e non vedo l'ora di provare anche questi io li ho presi neri mi sembra che c'erano solo neri o bianchi io li ho presi ovviamente neri perché il nero va con tutto è meno sporchevole del bianco cioè si sporca ugualmente però si nota di meno se camminate più di nudi e poi ho preso anche 3 paia di collant 40 denari adesso che arriva l'inverno adesso che magari ci mettiamo i vestitini le gonnelline eccetera con gli stivali o decoltè o quello che volete insomma anche con gli anfibi ci servono i collant collant che io spacco perché guardate qua io spacco con una facilità esagerata quindi ho preso appunto 3 paia di collant 40 denari a 4 euro e di questi ho preso la misura L perché non so non potevo provarli quindi non volevo rischiare che fossero piccoli al massimo mi stanno un po' più comodi insomma poi io i collant me li tiro sempre su fino qua fino sotto il seno se riesco a tirarmi su è meglio perché non voglio mai prendere freddo al pancino perché se no non digerisco e sto male ok non mi giudicate su questa cosa io devo avere la pancina al caldo perfetto quindi queste sono tutte le cose che ho comprato nel mio shopping da Primark mi sembrano tutte cose comunque semplici tutte cose molto normali niente di particolare come nel mio stile insomma rispecchiano il mio stile e niente quindi io vi bacio e spero che vi sia piaciuto tutto fatemelo sapere nei commenti lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi al canale se non siete iscritti io vi bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao